Ciao a tutti, tra i segnali di comunicazione non verbale ce n'è uno molto interessante che è quello di sollevare un piede. Ora, il piede può essere sollevato sia se si hanno i piedi posati sul terreno, quindi si solleva e resta il tallone appoggiato, oppure sollevare il piede con il pezzo di gamba se si hanno le gambe cavallate. Cosa significa questo segnale? Che significato ha? Allora, da un punto di vista della comunicazione non verbale, la persona sta denunciando comunque un suo conflitto con l'autorità, un conflitto con la figura paterna, comunque con una figura paterna, perché il piede rappresenta di fatto un simbolo paterno, un simbolo maschile, diciamo così, e quindi esibirlo significa aver avuto un conflitto e quindi tendere a sostituirsi a una figura di tipo paterno. È interessante però capire in quale circostanza i segnali di comunicazione non verbale è bene vederli, diciamo, in un contesto. Se viene utilizzato, diciamo così, in un contesto in cui la persona, quindi io ad esempio sto facendo un po' di pressing, sto cazziando, sto usando un tono di voce un po' forte, sto sgridando, diciamo così, e la persona contemporaneamente alza il piede, significa che analogicamente, diciamo, gradisce la sgridata. Ecco, quindi significa questo. Se invece viene esibito, diciamo così, quindi, se invece viene esibito da una donna nei confronti di un uomo, se viene esibito da una donna nei confronti di un uomo e la persona, diciamo, esibisce questo simbolo, vuol dire che comunque è attratta da un uomo virile, da un uomo maschio, diciamo così. Ecco, quindi dà un'indicazione all'uomo su come comportarsi, comportarsi per sedurla, per conquistarla, in modo virile, in modo deciso. Ecco, questo è il modo per il significato dell'interpretazione di questo segnale, appunto, di comunicazione non verbale. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale e seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!